Il Consorzio Punto Europa è stato chiamato a dare un contributo per scrivere l'Europa del futuro, scriverla insieme al governo italiano e alle maggiori istituzioni del territorio. L'abbiamo fatto non solo per l'Abruzzo, l'abbiamo fatto anche per le Marche, per il Molise e per la Puglia. Un ruolo di capofila di questi territori che esprimono la forza della base delle istituzioni locali, delle università, delle parrocchie, delle scuole, per far sì che l'Europa sia un'Europa più inclusiva, più concreta, più reale e che possa davvero dare un contributo alla crescita delle comunità. Essere inseriti nel documento del governo come Consorzio Punto Europa, insieme al Ministero degli Esteri, al CNEL e ai grandi istituzioni dello Stato, ci rende non solo orgogliosi ma anche motivati in un percorso entusiasmante che il COPE sta facendo negli ultimi anni. E qui in Abruzzo come andiamo, Presidente? Perché lei sta facendo una grande azione di conoscenza delle possibilità finanziarie che arrivano dall'Europa in tutti i territori. La Regione in questo come si comporta? Intanto diciamo che oltre a un'attività di conoscenza, di scrittura di bandi, noi ieri abbiamo candidato oltre 20 progetti per le infrastrutture sociali e anche per le infrastrutture sportive, per il Bando Sport e Periferie, per il Bando Infrastrutture Speciali e Sociali dell'Agenzia della Coesione Territoriale. Parliamo di milioni di euro che ricadono nei nostri territori. Voi ricorderete benissimo che l'anno passato sullo stesso Bando abbiamo candidato 11 progetti e 11 progetti sono stati finanziati, quindi milioni di euro che arrivano. L'Europa che diventa più concreta, più visibile, più riconoscibile. È ovvio che le istituzioni, anche regionali, devono comprendere meglio le potenzialità di soggetti che possono dare un contributo di scrittura dei progetti, di individuzione dei bandi necessari, di relazioni con la comunità europea, con il governo italiano, ma se possibile anche di nuove reti, di collaborazioni trasfrontalieri. Noi siamo proprio in questi giorni a giudicatari di un progetto sul turismo, di un secondo progetto finanziato con fondi europei, trasfrontalieri Italia-Croazia, paesi del Mediterraneo e regioni dell'Adriatico, dell'Adriatico Mediterraneo, ovviamente, e questo ci rende non solo forti e credibili, ma anche consapevoli di una rete territoriale e istituzionale sempre più forte.